Video, foto e rendering delle primetrie. Oggi affrontiamo questo aspetto che spesso viene sottovalutato, ma che io definisco il biglietto da visita del tuo immobile. Ciao, io sono Dario dell'Immobiliare Dammo. Biglietto da visita, ebbene sì, è così che ho definito questo importante servizio che noi offriamo per gestire al meglio e presentare soprattutto al meglio il tuo immobile. Prova a pensarci, ormai l'e-commerce è per tutti, è la prima cosa che fai quando sfogli gli annunci. Cos'è? Guardare se c'è una foto, guardare se c'è un video, e se mancano? Spesso l'annuncio neanche viene aperto. Preferiresti quindi che venga presentato così, o che venga presentato così? Noi di Immobiliare Dammo da sempre curiamo questo aspetto. Foto e video realizzati in modo professionale e utilizzando i migliori strumenti che attualmente il mercato ci mette a disposizione, che fanno percepire il reale valore e potenziale del tuo immobile. Ma cosa importante? Non vanno a ledere la privacy che ognuno ha nella propria casa. È un servizio aggiuntivo, ti chiederai? No. Fa parte del pacchetto completo che noi di Immobiliare Dammo offriamo ai nostri clienti che ci vogliono affidare il loro immobile in gestione, sia per la vendita che per l'affitto. E con questo è tutto per oggi. Ricordatevi di mettere un like a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale YouTube dell'Immobiliare Dammo, di attivare la campanellina che così non perdete i nostri prossimi video che ricordo saranno sempre a tema immobiliare e che cercheranno di abbracciare tutti quanti gli aspetti di questo mondo. Seguiteci sui nostri social, i link ritrovati in descrizione, insieme ai nostri contatti e alle nostre info. Io sono Dario, dell'Immobiliare Dammo e vi saluto. Ciao!